Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente siamo di nuovo qua, finalmente per voi, meno per me, perché se siamo qua è perché io ho speso dei soldi, facciamo finta di niente. Comunque sia, c'è da dire che questa volta, anche tutte le altre volte, abbiamo quest'auto delle cose utili, indispensabili per l'igiene della persona e della casa. Mi ricorda la tipo con la Vanna Marchi, d'accordo, bene, vabbè, niente, facciamo finta di dimenticare. Allora, vi dico alla fine quanto ho speso e vi dico anche dove sono stata, credo che per il prezzo, diciamo così, finale, la spesa sia più che valida, ecco, e magari in un altro supermercato avrei speso molto molto di più. Come potete vedere il primo oggetto acquistato è questo bastone per mocio e voi vi siete chiesti come ha fatto ad entrare in macchina? Entra e come si entra a fe... Non penso proprio. Andiamo avanti. Ah, ovviamente ho acquistato il bastone per il mocio e c'è anche il mocio. Io dentro a casa non l'avo con il mocio, però per l'esterno, diciamo per la verandina, volevo avere qualcosa di diverso e quindi ho optato per questa soluzione. Ecco. Indispensabile, sicuramente, è la carta igienica. Ahimè, diciamoci la verità, questa sicuro la comprate tutti, quindi non la compro solamente io. Unica, vet, unica. Poi, vediamo un pochino da dove iniziare. Allora, è arrivata la stagione delle zanzarine. Non era una zanzara normale, era una zanzingra. Quindi ho acquistato queste ricariche ride, due ricariche in odore classiche, c'è poco da dire. Pellicola, chito, 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 ultraaderente, pellicola 50 metri. Quindi, poi, oh yes, ma prima non si chiamava ole, eh? Vabbè, non mi ricordo. Comunque ho preso questo porpora. Allora, diciamo che l'ho preso a, indovina e indovinello, Marco Diron di Rondello. Perché, essendo sigillati, non si riesce a sentire l'odore. Quindi, diciamo così, a intuito, mi ispirava questo qui. Ogni tanto lo uso. Quello che avevo prima si chiamava azzurro. Ed era molto buono. Molto buono. Però volevo provare qualcosa di diverso e ho preso questo qui porpora. Vi faccio sapere, se ce l'avete, ditemi com'è. Mi fido, ovviamente, anche dei vostri consigli. Borotalco Original, sapone per le mani. Profumo di borotalco. Effetto borotalco sulla pelle. Alto là il sudore. Due di ace gentile. Questi sono al lavanda e muschio bianco. Il primo che ho trovato, l'importante è che sia ace gentile, perché io lo uso per quanto riguarda i capi scuri e colorati. Mentre per i capi bianchi uso un po' di candeggina. Lo so che non si dovrebbe, però la mania del disinfettare è generale, ecco. Mi inquietano i germi batteri. E questo è il primo cartoncino che abbiamo usato. Andiamo avanti. Allora, dei panni per lavare il pavimento. Perché, come vi dicevo, la veranda esterna la laverò con il mocio. Questa è una novità, l'ho sempre lavata con la gomma, eccetera, eccetera. Però questa volta volevo cambiare. Quindi tre panni, 40x60, questi molto economici, pagheri 90 centesimi. Ovviamente, alla fine, vi dico il conto finale. Altri pannetti in microfibra per spolverare. Questi andavano a pacchetto, quindi 12 pezzi, e costavano 45 centesimi l'uno. Come non comprare delle candele profumate? Allora, questa non vedo l'ora di accenderla. Questo è al miele e cioccolato della Glade, in vetro. Ed è, dice che la cera è a base di piante, quindi vegetali. Fragranza creata con note di miele e cioccolato. Devo dire che si sente molto, ed è anche molto buona. Molto dolce, quindi se non vi piace la fragranza del dolce, non acquistatelo. Questo è molto dolce. Forse è più per i periodi invernali, quando si accende il caminetto, quando si ha il calduccio. Ecco, magari l'estate si tende ad acquistare qualcosa di fresco. Io no. Vabbè, fa niente. Glitter! Ah, c'è Glitter! Il WC Gel, però con i Glitter. Brezza marina, odore. E niente, poteva anche non profumare o fa schifo. L'importante è che c'erano i Glitter. Appena ho letto Glitter, era mio. I due mochi, che servono per il bastone. E della Vileda. Basta, c'è molto a dire. Poi, adesso se ne vuoi la pianta. Delle colle, ho acquistato i due pacchetti che erano in offerta. Colle stick classiche, c'è poco a dire. Delle batterie, meglio chiamate pile. E l'autan. Ero indecisa tra questo e l'off. Solo che l'off, non lo so, l'ho utilizzato l'anno scorso, ma non mi ha entusiasmato molto. E quindi sono ritornata all'autan. Questo l'ho pagato un pochino. 4 euro forse. Poi, ho visto questa novità dell'Ambipur, che sta collaborando con l'Enor. Allora, partiamo dal presupposto che io ne avevo già acquistati due. Di cui una fragranza vaniglia e l'altra invece brezza primaverile. Che era quella classica, celestina. Invece in questo supermercato c'era questo qua, ai fiori esodici. Che sarebbe quello violetto. Quindi camomilla e lavanda, una roba del genere. Lo stesso odore dell'ammorbidente. Due in uno, combatte gli odori e dona freschezza. Va bene. Però cerchiamo sempre di lavarci, mi raccomando. Perché è importante. Specialmente col caldo. Siete gentili con gli altri esseri umani. Ho acquistato questo qui classico. Oro e fiori di vaniglia. E anche quest'altro. Ne ho presi due in poche parole. Servono sempre. Se c'è un ospite all'ultimo minuto, fai... In America esistono i bottiglioni di latte, i bottiglioni di succo di frutta, i bottiglioni, che ne so, di Coca-Cola. Io no. Non mi piegherò mai a questa cosa. Io solo a bottiglioni detergente. Solo. Però devo dire che con questa spesuccia riesco a stare un po' di tempo senza. Allora, qui abbiamo un lavapavimenti molto generico. Ecco, non è che andiamo... Anche perché mi serve per l'esterno, quindi diciamo che ci passo ogni tanto un prodotto più buono, ecco, quando lo vedo più rovinato, più sporco del solito. Però per la pulizia giornaliera uso un comune detergente. Questo qui è alla vaniglia. Devo dire che, nonostante il costo irrisorio, è anche comunque sia un buon prodotto. Quindi l'ho voluto riacquistare. Abbiamo due scioglimacchia. Questi non devono mai mancare. Che siano questo, che siano di un'altra marca. L'importante è che sia uno scioglimacchia. Perché per qualsiasi problema, fai sempre... E questo ti sciogli la macchia. Poi lo metti nella lavatrice, lo lavi a mano. Eh, la macchia va via. Allora, ho notato l'altra volta, andando a fare la spesa, che il via calo è diventato inguardabile, intoccabile. Via calo, via il calcare, tutto torna a brillare. Boom! E costa un botto. E non lo so che è successo. Cioè, ma veramente tanto. Prezzo bomba. Niente, io l'ho trovato in offerta, anche se non è la grammatura classica. Questo è da 470 millilitri, quindi è anche più piccolo. Anche se adesso è tutto diventato più piccolo. Ne ho acquistati tre perché erano in offerta. Costavano 1,70 euro, credo. 1,75 euro. Devo controllare. Delle spugne, queste qui, costavano pochissimo, 27 centesimi, della Blitz. E ne ho presi due pacchetti, credo. Credo che siano questi. Adesso controlliamo comunque. Dei cotton fioc per le orecchiette, che poi bisogna sentire, specialmente quando si va al mercato. Signora, i limoni, signora! Ecco. Mentre se usate questi non succede, mi raccomando. Vabbè, quella è anche un po' con la memoria comunque. Ma io sono giovane, quindi non mi serve ancora. Dei bicchieri di plastica. Allora, io non sono molto a favore della plastica, ecco. Però ogni tanto purtroppo servono, perché se si va di corsa non si può lavare il bicchiere, eccetera. E purtroppo ogni tanto cado in questi acquisti non molto validi per l'ambiente, ecco. Anche se devo dire che sono riciclabili. Quindi diciamo che mi sento meno in colpa. Abbiamo, abbiamo il detersivo per la lavastoviglie. Ho acquisito questo Fairy Platinum Plus All in One. E adesso sì che le stoviglie sono pulite. Che pulito! Acquistatelo anche voi. Non me frega niente. Cioè nel senso se lo volete acquistare, lo acquistate. Mi spalmiamo. Mentre per quanto riguarda i bicchierini, questi sono biodegradabili. E compostabile. Quindi, quindi, sono nella normativa di legge. Non sono fuori norma, ecco. Da questi laboratori i miei dottori studiano e producono per voi i prodotti bellezza Vanna Marchi per diventare snelli, dinamici, scattanti e belli. Hai acquistato i bicchieri! No, mi sento troppo Vanna Marchi. Ma troppo Vanna Marchi, non lo so perché. Allora, vediamo un pochino. Delle vaschette di alluminio. Se siete invitati a qualche festicciola, potete fare tutto qui dentro e portate direttamente a casa del festeggiato, se avete invitati anche voi, direttamente il cibo qua dentro. Ah, come così ho visto una cosa su Instagram, dove mettevano il ghiaccio qua, in una vaschetta grande, poi ci mettevano un'altra vaschetta uguale o più piccola e sotto ci mettevano la frutta, le cose, così le teneva fresche. Sono intelligenti, sono intelligenti. Piatti di plastica, anche qui 20 pezzi piani, poi piatti VIP. Ah, si può anche lavare i lavastoviglie! Wow! Io che lo scopro, dovevo averlo acquistato, è il massimo. Sì, sì, si possono lavare i lavastoviglie, quindi sono riutilizzabili e vengono dalla Grecia, made in Greece. Si può salvare ogni giorno, mi raccomando. C'è anche la figura della tartaruchina, perché non dovete buttarlo in mezzo alla strada. Mi raccomando, rispettate poi le normative. Non siate malvagi, anche perché ci abitate anche voi in questo mondo. Lavatrice pulito profondo extra smacchiante della Chanté Claire. Questo è un nuovo, non l'ho mai provato. Cioè, non so se è un nuovo, io non l'ho mai provato, ecco. Sa tipo di dash, di dash liquido. Sì, carino, carino. Ed è celestino, va bene. Lo proveremo. Cif, bagno anticalcare, profumo di gelsomino. Vediamo se è profumo di gelsomino. A me non piace il gelsomino. Infatti, me lo ricordavo strano. Non mi piace. Vabbè, poi lo regalo. Non mi piace. Non mi piace il gelsomino. Extra potere igienizzante, mastro lindo con cadneggina. Dello sporco e sinodo. Questo è profumo di eucalipto. Questo si può aprire? No, perché costa cosa così. Vabbè, ma l'eucalipto, dai, magari è più carino. Poi. Last al limone. Deodorante alla vastoviglie. Allora, per favore, chiunque stia guardando questo video, mi può consigliare un deodorante per la vastoviglie valido? Cioè, che non dopo le prime due o tre lavaggi non funziona più. Perché io ne acquisto tantissimi. E anche di marca, quindi pril, finish, eccetera, eccetera, che costano tantissimo. Però dopo i due o tre lavaggi non vanno più. Quindi, se avete la vastoviglie e usate i deodoranti per la vastoviglie, vi prego, scrivete nei commenti un deodorante decente che voi avete provato e che funziona. Perché mi sono un po' stancata di acquistarli e poi non funzionano. Questo dice che fa 140 lavaggi totali, formato convenienza. Sì, ma se dopo già il primo lavaggio non funzioni più, non mi servi. Lo apriamo comunque. Allora, ammoniaca, detergente profumato. Questo qui. Pagata una miseria, tipo 75 centesimi. Sempre per l'esterno è buona. Perché vi dico per l'esterno? Non perché dell'esterno non mi interessa niente, ma perché il mattonato esterno è diverso da quello interno. Quindi quello interno è molto più pregiato, quello esterno, sì, ok, però non è come quello interno. Quindi quello interno non si tocca. Cioè, uso i migliori prodotti possibili e immaginabili. Mentre quello esterno, ok, sì, l'importante è che sia lavato. Allora, ho trovato una super offerta per quanto riguarda il Vanish. Allora. Piccolo. Momento polemica. Il Vanish dentro il barattolino, quello classico il barattolino, penso che lo conosciate, con il misurino, 6 euro, 5 euro e qualcosa. Dentro questa plastica la stessa quantità, identica, 1,97 euro. Allora, va bene, va bene tutto. Però adesso non c'è né il misurino. No, sta dentro il misurino, quindi alta fregatura pure. Perché lo sento qua, quindi sta dentro. E sì, e sì che sta dentro. Quindi proprio sta qua dentro. Vabbè, stessa quantità comunque del barattolino. Quindi uno dice, si conserva il barattolo e questo lo prende come ricarica, tanto c'è pure il misurino. È abbastanza intelligente. Comunque ne ho comprato uno e due X-Action di questo qui, chiaro. E poi uno e due di questo qui, classico. Stessa identica cosa, tutti hanno il misurino, io l'ho appena sentito, sinceramente. 1,90 euro. Allora, questo qui della Feri, sempre per la lavastoviglio. Extra brillantezza, extra billo. Extra brillo. Vi ricordo uno che era pelato? Che feo, brillo. E l'ho svelto, l'ho svelto, limone verde, con vero succo di limone. Sono andati, i poverini, li hanno spremuti così per mettervi dentro la bottiglietta. C'è il vero succo di limone. Lo volevo vedere io. Non c'è neanche scritto cosa c'è dentro. Ah, eccolo. Altri ingredienti. Succo di limone. Speriamo. Quindi lo posso bere. Però profuma. Vabbè. Poi ho preso questo qua con il dosatore, così è più carino. Ecco. Altro svelto. Questo qui, arancione. 3x. Potere sgrassante. Eccezionale contro gli odori più persistenti. Questo con l'aceto. Questo l'ho pagato 1,35 euro comunque. Questo qua invece è 1,39 euro. Cioè questo è più economico. Ma sono uguali. 450-500 ml. Ah, ah, ah. Ci sono 50 ml in più. Allora, mastro lindo bicarbonato multisoperfici. Nuovo. Non lo so. Rimuove macchie e odori. Con estratti naturali. Dice che è per i mobili. La cucina, il bagno e per la doccia. Per tutto. Vi potete pure lavare voi. Questo se lo mettete nella doccia, fidatevi che i vostri mariti si laveranno con questo. Provate per credere. Allora, ho preso questa spazzola pedicure manicure. Momenti unici di relax. C'è scritto così sulla busta. Però se voi effettivamente aprite, cioè se apriamo la bustina, cioè sta spazzola di relax c'ha proprio una mazza perché gratta, ci vi leva la pelle. Quindi, a meno che non ci avete i piedi duri come le pietre, allora sì, è relax, ce lo sentite molto leggero. Ma se no... E c'è anche la pietra pomice comunque. Carino. Non lo so. Due flaconcini piccolini di rapida toliruggine. Ma strindo a bagno, questo qua fai e pulisci, e pulisci. Questo quando è pulito devi solamente dare una rinfrescata, anche perché io ho due bagni, quindi uno che uso più spesso, lo lavo ovviamente come si deve. Mentre l'altro che io non uso mai, è peccato, cioè lavarlo ogni giorno, sempre con la spugna, la schiuma, l'acqua, eccetera, eccetera. Cioè, va anche a rovinarsi. Quindi faccio... Va benissimo. Cucina a superfici delicate, sgrassa, protettivo e senza aloni. Piene a induzione, laminati, marmi, quarzi, a filo coltelli. Signora, forchette cucine. Non so se avete la rotina anche da voi. Questo qui è il prodotto nuovo del Quasar. Rio, casa mia, ammoniaco detergente super profumato. Forza del pulito per tutta tua casa. Non lo so. Non so se ve la ricordate questa pubblicità, ma io l'adoro. Cioè, mi è rimasta in mente solamente quella. Forza del pulito per tutta tua casa. E lo so, lo so che mi stai ricordando anche voi di quella pubblicità. Lo so. Tutti provato, uno solo comprato. Lo so che mi fa per questo, per raffiorire i vostri ricordi dentro la vostra mente. Comunque, questo arriva a casa mia. Professional vetri, specchi e superfici lucide con ammoniaca. Quindi, mi raccomando, le cose bianche, perché potrebbe macchiare. Non lo so, non l'ho provato, è nuovo. Altro, questi qua ne ho presi due. Di questi qua, ve l'avevo già detto prima, che l'odore è simile a quello del Dash. Allora, vassoglietti della Cookie. Nel caso bisogna mettere qualcosa, sempre da portare, o magari c'è gente. Molto carini, paga di un euro, quindi va bene. Possono sempre servire. Voi acquistate che, fidatevi, prima o poi serve sempre tutto. Cotonini, i dischetti, 120 dischetti, a 70 centesimi l'uno. E dice che ha double face, quindi a doppia faccia. Pure i dischetti tengono la doppia faccia. Non basta le persone stanno so facciando a terra. Pure i dischetti. Pronto, everyday clean. Perché io questo lo uso per lavare a terra. Perché ho sbagliato ad acquistarlo, non mi serviva in poche parole. E niente, allora si può usare su piastrelle, pavimenti sigillati, pavimenti laminati e pavimenti che non richiedono l'uso di cera. Mi raccomando, utilizzatene poco, anche perché costa. Dopo barba della denim, questa è black. Vediamo la profumazione perché sono curiosa. Ah, che carino! Buono! Sa di quegli anziani? Anziani che prima non è vero. Poi comunque carini. Sì, ma sa di anziani. Prima usavano le colonie, adesso non le usano quasi più. Erano molto carini prima. Adesso le onnette sono carini. Allora, questa crema pre-barba. Come pre-barba? Pre-raso, non pro-raso. Io pensavo che fosse una crema... Per dopo la barba. Ah! Sa di Vix! Oddio! Senti, senti! Quali che si mette sul petto. Oddio! Sa di Vix! Oh! Oh! Quante cose mi sto ricordando in questo momento. Adesso facciamo un bel massaggio con Vix Vaporub. Comunque il Vix usa ancora. Vabbè. E il dedorante perché questo ho visto che l'hanno consigliato molto su Instagram in quanto tratteneva molto il sudone, nel senso che la profumazione restava per molto tempo, quindi era molto duraturo. Ce l'ho acquistato solamente per quello. Qui c'è uno scontrino. Un accendigas. Questo qui. Classico, semplice. Non c'è poco da dire. Altro Vix gel, questo con candeggina. Igenizia e profuma il Vix. E niente, basta. Schiumativa più agenti sbiancanti. Questo è marino. Pronto! Che ormai è diventato inaccessibile. Cioè, sembra che ti stai comprando un piccolo lingottino d'oro da tenere in cassaforte. E questo è alla lavanda. L'ho acquistato alla lavanda perché l'avevo provato e mi è piaciuto più di quello classico. Anche perché i miei mobili sono moderni, quindi quello classico non mi serviva. Questo l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Allora, passiamo al bagno schiuma. Questo qui è della Nivea all'orchidea. È la prima volta che lo provo. Non ho mai preso bagno schiuma della Nivea. Questo mi intrigava l'odore. Devo dire che è molto carino. Lo proveremo. Anche un altro qui, che è Creme Smooth. Questo è anche un bagno schiuma. Questo è molto più delicato. Sa di tipo quella doccia dopo dal mare. Ma io non vado al mare. Ci tengo a restare bianca. Altrimenti poi vi confondete con un'altra, mentre io devo rimanere standard. Quindi standard e mi conoscete sempre. Se trovate un video con una bianca, sono io. Mi raccomando, non vi potete sbagliare. Ricariche, rasoio, Gillette Fusion 5. Ammazza quanto costano. C'è tantissimo. Pagate 13 euro. Se ricaviche, va bene. Bagno schiuma. Questo è quello che usiamo di solito. Quello del borotalco classico. Questo qui è bergamotto e tè verde mai usato. Lo proveremo. È fresco. Anche questo qua. Muschio bianco. Classico muschio bianco. Muschio bianco. Niente di più, niente di meno. Arriviamo alla fine con 1 Dash Alhambra Pots, 2 Dash Lavanda Pots, 3 Dash Lavanda Pots. E basta. E niente. Questa è tutta la mia spesa per quanto riguarda l'area detersivi. Non so se voi usate gli stessi prodotti o riuscite a trovare prodotti meno costosi e sicuramente validi. Se avete qualche dupe più economico fatemelo sapere sempre nei commenti. Io vi dico quello che ho acquistato io, però ovviamente cerchiamo di aiutarci tra di noi. Anche perché tutta questa spesa qui, compresa la carta igienica che è volata via, Ciao, carta igienica. Mi è venuta a costare 217 euro, fatta da Cash & Carry. E niente. Comunque sia, ho acquistato prodotti di uso quotidiano, ecco, niente da... Tra le candele profumate. Ma tutti compriamo le candele profumate. Che sia di Ikea, che sia da un'altra parte. Quindi, fanno parte della spesa, cioè proprio si introducono da sole dentro il bustone della spesa. Cioè, sanno già che... E basta. Questo qui è il mio acquisto. Sicuramente, 217 euro sono tante. C'è da dire però che il Dash, questo qui, da 44 pots, costava 10 euro il pacchetto. 9 euro è qualcosa. Inutile che guardiamo il centesimo. Sono 10 euro. Quindi abbiamo già 30 euro solo di Dash. Poi il resto, diciamo, è roba tutta comune. Questa qui anche è costata abbastanza sulle 5 euro. Quindi, dopo aver fatto la vanna marchi della situazione, speriamo che non mi arrestino, come hanno fatto con lei. Spero che questi video vi possano piacere. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Vi ricordo di mettere mi piace ai video. Non vi costa niente. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale. Perché non vi costa niente. È tutto gratis. Quindi, seguitemi, mettetemi mi piace e grazie, ovviamente. Ci saranno altri video, questo poco ma sicuro. Quindi, stay tuned. Oppure l'inglese. International. Quasi quasi cambio nome. Claudio International. Ci penso. E niente, quindi, vi lascio alla nostra sigla. E al prossimo video! Al prossimo video! Benvenuti in questo nuovo video. Rifacciamolo che non mi piace. Non mi piace, rifacciamolo. Questo è aperto. E poi esce il bagnoschiuma che io l'ho pagato. Se spungi. Continui.